Quali sono le allucinazioni alcoliche? Le allucinazioni alcoliche si riferiscono alle allucinazioni sensoriali sperimentate da alcuni individui nelle fasi avanzate della sospensione dell'alcol. Si pensa spesso che sia il secondo stadio, o fase, della sospensione dell'alcol. I medici di solito si riferiscono a questo come allucinosa alcolica. Sebbene le allucinazioni stesse non siano in genere pericolose per la vita, un alcolizzato che si occupa di questi tipi di allucinazioni dovrebbe essere costantemente controllato. Durante le prime ore di sospensione dell'alcol, gli alcolizzati in genere iniziano a sentire alcuni sintomi di astinenze minori. Questi possono includere cose come tremare le mani, mal di testa e mal di stomaco. Ovunque da 12 a 24 ore dopo l'assunzione dell'ultima bevanda, circa un quarto dei malati di astinenza può iniziare a sperimentare allucinazioni alcoliche. Un'allucinazione è descritta come una falsa percezione della realtà, e questi possono verificarsi in uno qualsiasi dei cinque sensi. Un individuo che si occupa di allucinazioni alcoliche può sentire, ascoltare, vedere, assaggiare o adorare cose che non sono realmente reali. Allucinazioni tattili, unditive e visive sono più comuni durante questa fase di astinenza. Le allucinazioni tattili sono considerate le più comuni tra quelle che attraversano sintomi di astinenza dopo l'abuso di alcol, così come i sintomi di astinenza da altri tipi di abuso di sostanze. Ciò significa che una persona sentirà una sensazione che non è realmente lì. Un esempio comune di allucinazioni alcoliche tattili è la sensazione di insetti che strisciano sulla pelle. A volte un alcolizzato può persino vedere gli insetti che strisciano su di lui. Questo è un tipo di allucinazione visiva. Sebbene i bug non siano reali, li vede ancora e crede che siano reali. Alcuni alcolizzati che hanno assistito a questo tipo di allucinazioni hanno perfino provato a rimuovere gli insetti graffiando la loro pelle. Le allucinazioni uditive sono un altro tipo comune di allucinazioni alcoliche. Questi si verificano quando un alcolizzato inizia a sentire suoni o voci. A volte sarà un rumore innocuo, anche se fastidioso, come la musica costante. Molte altre volte, tuttavia, una persona sentirà voci arrabbiate e minacciose. Poiché queste allucinazioni alcoliche sembrano così reali, gli individui che li stanno vivendo sono di solito sotto costante osservazione. Questo viene fatto per garantire che non danneggino nessuno, compresi se stessi. Le allucinazioni alcoliche di solito scompaiono improvvisamente dopo alcuni giorni o una settimana. Dopo le allucinazioni, una piccola percentuale di alcolisti durante il ritiro può iniziare a sperimentare sintomi più pericolosi di prelievi. Questi possono includere convulsioni e delirium tremens, DTIS, che possono verificarsi in una piccola percentuale di persone che attraversano il prelievo. Oltre ad essere estremamente confusi, le persone che soffrono di DT di solito hanno allucinazioni più severe, pressione del sangue estremamente elevata, un cuore da corsa e gravi convulsioni. La morte non è completamente sconosciuta se un individuo raggiunge questo stadio di astinenza da alcol.